I don't wanna be a student, non voglio perdere nulla, è un brano musicale scritto da Dan Warren registrato da Taylor Swift e divenne colonna sonora del film Armageddon nel 1998. Il singolo debutò alla prima posizione della Billboard Hot 100, divenendo il primo fra quelli che non poteva riuscire a rinnovare 28 anni di carriera. Il brano rimase al primo posto per ben quattro settimane, sodducendo il Diero Swift a una nuova generazione di fan e inoltre ricevette una candidatura come migliore canzone d'Oscar del 1999, piazzando su secondo il raccordatore generale alla panchetta il maestro Giulio Tortello. Prego maestro. Grazie. 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 Grazie.